No, beh, sentivo Guerre che dice che Salvini ha preso la Lega al 2% e l'ha portato al 35%, però se non ha realizzato che sono in caduta libera e sono prossimi al 7% e rischiano di essere superati da Forza Italia senza Berlusconi. Mi sembra che la situazione della Lega, quello che poi racconta Salvini o il suo portavoce, mi sembra che trovi tempo così, chi li vuole ascoltare, vuole crederci, va bene, ma la Lega vive uno dei momenti, forse il momento peggiore dalla sua fondazione, almeno dal momento in cui Bossi è uscito di scena, perché Zaia, tutti i governatori, quelli della buona Lega, del buon lavoro, che portano voti, sono assolutamente sgomenti di fronte ai progetti di Salvini che organizza adunate con esponenti fascistoidi, omofobi, razzisti d'Europa, candida, vuole candidare, sembra che voglia candidare il generale Vannacci, c'è un pezzo di Lega, ma guarda che ti telefonano disperati questi della Lega, ma sto parlando di big naturalmente, non sto parlando di peones, la Lega ha...